L'obiettivo del protocollo di intesa è coinvolgere l'Università di Tearema, il mondo accademico e i giovani verso la cultura dell'impresa, studiare le migliori strategie che possono riguardare la gestione dei fondi che arriveranno in Regione Abruzzo, studiare le migliori strategie per attuare quelle misure, tutta quella progettualità per coinvolgere i giovani verso la creazione di impresa, della creazione di start-up e cercare di creare per loro un mondo ideale, un ambiente ideale per poter raccogliere le loro esigenze verso il futuro e verso le nuove idee che loro andranno a produrre. È un contenitore che starà a noi riempire quotidianamente grazie anche all'interazione con la Regione, quindi la possibilità di intervenire nella programmazione 21-27, la possibilità di promuovere delle idee progettuali per quanto riguarda il recovery plan e altre possibilità di finanziamenti competitivi, la possibilità di formare, di formare quindi non solo i nostri studenti ma anche le aziende, quindi un servizio ulteriore per il territorio e la necessità di fare rete, quindi per far emergere quella che è anche la terza missione dell'Università. Si riparte con le metropolazioni, si riparte con le lezioni in presenza e si parla anche di Green Pass nel territorio nazionale. Si può attuare questo concetto anche per le Università? Noi siamo pronti a tutto, abbiamo gli spazi, abbiamo le regole e quindi noi all'inizio del primo semestre ricominceremo in presenza, dando ovviamente possibilità a chi non può di seguire online. A livello personale ho qualche dubbio sulla possibilità all'interno del mondo universitario di utilizzare il Green Pass. Del resto noi abbiamo un'elevatissima percentuale di vaccinati sia tra il personale e anche soprattutto grazie al lab vaccinale, grazie all'interazione con la ASL, con la Regione, con il Comune. Abbiamo un elevato numero di studenti vaccinati. Indipendentemente dalle regole che ci saranno all'inizio di ottobre, noi siamo pronti. Abbiamo le strutture, lo dicevo, e abbiamo le modalità per ricominciare, indipendentemente dal Green Pass, ma soprattutto abbiamo la voglia di tornare ad essere la comunità che siamo sempre stati.